Buongiorno a tutti dai vigneti di Villa Petriolo, eccoci di nuovo nel vigneto delle rose dove come si vede la vegetazione nonostante siamo solo al 6 di maggio è già cresciuta in modo abbondante direi che siamo un paio di settimane in anticipo rispetto alla fenologia che normalmente si vede in questo periodo l'operazione che andiamo a fare in questi giorni è quella di selezionare i germogli che ci porteranno poi a maturazione le uve che produrranno poi le uve che andranno a maturazione durante la stagione come si vede in questa fase la pianta ha un aspetto cespuglioso noi dobbiamo andare in ogni punto produttivo e selezionare i due tralci che produrranno i grappoli che poi ci porteremo in cantina l'operazione si fa in questo modo cerchiamo di scegliere i germogli migliori quelli posizionati meglio in modo poi da poterli palizzare all'interno dei figli e avere poi successivamente una spalliera efficiente in grado di maturare in modo ottimale le uve